Il teatro a Gallicchio, la comunità del Borgo, ha portato in scena uno spettacolo dal titolo Uscaliello di Orlando per la regia di Ulderico Pesce, una rievocazione storica della distruzione di Gallicchio Vetere da parte dei Saraceni, un'opera corale, grazie a Napoli. Tanta ferocia, tutta luttata, uno, morte, grida, lame! Quando gli arabi arrivarono e vivero questo paesino, arroccato, pieno di porte e alte mura, volevano entrare ma non ci riuscivano ad entrare perché le mura erano molto alte. E allora che cosa fanno? C'è un pastore sotto il paese che pascola le pecore, si ingraziano questo pastore e con un trucco riescono a farsi dire il passaggio segreto che porta nel cuore di Gallicchio Vetere. Bella! 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 E' la storia leggendaria del pastore Antonio che gran parte della comunità locale che ha preso parte ad un laboratorio durato due mesi, mette in scena nel luogo in cui i fatti avvennero, a strapiombo sul fiume Agri, una volta navigabile. Una tradizione la cui base storica è testimoniata dai documenti, dal sito archeologico e da 13 monete antiche custodite nel museo di Policoro. I 131 comuni della Basilicata sono ricchi di storia, di identità, di cultura, di narrazioni, di musica, di canti, di piatti tipici. Bene, la grande ricchezza va messa a sistema, va strutturata, narrata e ogni paese ha un piccolo attrattore. La rappresentazione è stata infatti voluta dal Comune nell'ambito del progetto Beni Intangibili della Regione dedicato alla promozione del patrimonio immateriale, sullo sfondo l'essenza della civiltà contadina, la pastorizia, la transumanza, la lavorazione della ginestra, la raccolta del grano. Lo spettacolo andrà ancora in scena ad agosto.